Mi chiamo Davide e fino a poche ore fa ero un consigliere comunale di maggioranza a Bologna. La maggioranza mi ha cacciato perché ha osato dire che sarei andato a vedere un film. Il testimone da giorni sta facendo scalpore, ci sono in tanti che dicono che andrebbe censurato, si tratterebbe...